È stato per me molto importante questo viaggio, a parte la gente conosciuta, simpatica, sono riposato un po', ma ho potuto, diciamo, conoscere dei territori di cui io sentivo sempre parlarne. Io qua a Premana sono già venuto, sono venuto in macchina st'inverno, perché ero proprio curioso, adesso che stiamo facendo anche ste associazioni un po' tra vallate, e quindi sta associazione aerobica, mi piaceva proprio conoscerlo anche in questo territorio, quindi per me è stata una bella occasione per poter visitarlo, ma anche condividerlo con delle persone che comunque lo conoscono, quindi adesso ho delle idee ben chiare anche di quello che mi sta vicino, e quindi sicuramente per me è stato importante questo, perché riuscirò a valorizzare meglio veramente la nostra montagna, perché star solo là è sbagliato, perché ti immagini ma non ti rendi conto della bellezza e magari delle opportunità che hai anche per attraversare o per collegarti magari anche con dei turisti.